I want to break free Ladies and gentlemen, con grande orgoglio che vi presentiamo il nostro istituto, Principe di Piemonte. Nella nostra scuola abbiamo molti progetti come il Pantacu che fruttano crediti scolastici. Ricopriamo il ruolo di istituto musicale della nostra città. Vari sono gli strumenti che potreste suonare come il basso, la chitarra, il violino, il violoncello, il pianoforte e il flauto. La nostra scuola è molto attenta alle lingue. Oltre all'inglese si possono studiare anche francese, tedesco e spagnolo. I professori e gli assistenti sono attenti e disponibili ai nostri bisogni. Il nostro percorso è esonerato dalla tesina, bisogna studiare tutto il programma. In base alla vostra volontà otterrete risultati direttamente proporzionali al vostro impegno. Il nostro istituto è molto efficiente, riesce a gestire moltissime attività contemporaneamente. E lo sentiamo!